Un Lecce con personalità e determinazione, consapevole delle proprie qualità, sfacciato, è ciò che occorre in quest'ultimo scorcio del torneo cadetto per tentare l'aggancio alla Serie A diretta, sette giornate dalla fine, approfittare di una classifica cortissima che raccoglie in soli dieci punti, dalla Cremonese prima a 59 all'Ascoli a quota 49, le prime otto squadre del campionato. Sta a Baroni, tecnico navigato che sa il fatto suo e soprattutto sa come si vince in questa categoria, trasferire alla squadra Concetti dal notevole peso specifico nel momento cruciale della stagione. Obiettivo comune è lasciarsi alle spalle l'ultimo periodo caratterizzato da quattro pareggi di fila contro Perugia, Brescia, Cosenza e Parma e accelerare in modo definitivo verso la meta. Sabato al Via del Mare arriva il Frosinone e sarà un match da aggredire fin da subito, al cospetto di un avversario che si gioca molto proprio in considerazione del fatto che i suoi 8-7 punti di ritardo dalle prime due posizioni lo inducono a non mandare troppo presto in archivio i propositi di promozione diretta. Analizzando la classifica da qui alla fine del campionato, Frosinone e Pisa sono gli avversari diretti di Capitan Lucioni e compagni sulla strada della A, avversari da affrontare in casa, al pari di Spalle e Pordenone, per un totale di quattro partite interne, cui aggiungere le tre impegnative trasferte di Terni, Reggio Calabria e Vicenza. Solo uno scontro diretto contro il Frosinone per la cremonese di Fabio Pecchia, che torna a respirare aria della massima serie lasciata a metà anni 90, dopo l'esaltazione per lo storico trionfo a Wembley nel torneo anglo-italiano. Ben quattro gli scontri diretti che attendono invece il Pisa, con Benevento, Brescia, Lecce e Frosinone. Tre di fila per il Monza, Brescia, Frosinone e Benevento. Il perdurare dell'equilibrio è in luce a pensare che la volata per i primi due posti possa risolversi al fotofinish. Ecco perché, discorsi tecnici a parte. Per il Lecce sarà fondamentale scendere in campo senza paure e prendere di petto il campionato.